buongiorno buona gente questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di etv per la nostra vostra rassegna stampa ben ritrovati ben ritrovati 21 di dicembre come mi sbirciavano quattro folletti poco fa entra l'inverno ufficialmente a livello di calendario 21 dicembre tra poco sarà natale allora accendiamo ecco il nostro nostro insomma ce l'hanno regalato saluto l'amico di camerano che ce l'ha preparato l'alberello di natale che crea l'atmosfera così come crea l'atmosfera la tredicesima cominciamo questa nostra rassegna stampa che poi viene riproposta anche alle 13 e 30 e 14 e 30 in realtà abbiamo cominciato già come tutti i giorni alle 6 e 45 dalle 7 e 30 facciamo un po un riepilogo ma cominciamo con il sorriso la vita è un attimo la tredicesima pure in effetti qualcosa l'avevamo intuito e così cominciamo con i saluti per cinzia per dina per golesi per amparo felice navidad a todos che bello che dio vi benedica a civita nova l'atario aumenterà del 18 per cento qui carla ci porta subito a temi caldi e poi marino molto albini buongiorno il re del mai sottofile una abbraccio caro marino e viva e viva tutti gli agricoltori le contadine i contadini per dirla in maniera concreta pane al pane e vino al vino che sono la nostra storia la nostra tradizione anche perché no il nostro futuro io porto le bretelle l'ho detto tante volte in omaggio ai miei nonni che lavoravano la campagna l'orticello i prodotti naturali e per le nostre radici che guardiamo al futuro cominciamo con la rassegna stampa ripartiamo dal corriere dopo aver sfogliato il carlino per chi ci segue la mattina dalle 6 45 export macerata dunque segnali di ripresa bene il calzaturiero ma soffre il commercio confartigianato e cna pronte per le sfide 2024 taglio centrale una storia che vi abbiamo già anticipato adesso spengo per il risparmio energetico l'alberello muore nell'auto contro mano una storia che vi abbiamo anticipato già ieri nell'edizione delle 13 20 e delle 14 20 ieri notte la notizia è rimbalzata nelle marche attorno alle 2 30 del mattino a spoleto un incidente stradale si è portato via un ragazzo di 27 anni di pieve torino avrebbe imboccato la strada contro mano dopo una cena in azienda una cena di di fine anno aziendale condanna 12 anni a portore canati per stalking e abusi su una ragazzina si erano conosciuti su tiktok poi cercheremo anche di dare qualche dettaglio in più su come si possa controllare il cellulare dei nostri figli per chi ritiene che non sia sbagliato e io ritengo non sia sbagliato fino insomma a 17 18 anni ogni tanto un'occhiatina perché dentro i social ci sono anche falsi giovani che sono adulti e sono a caccia dei minorenni società sprofondate nel crack lanari imprenditore anconetano patteggia 4 anni il costruttore era accusato di banca rotta fraudolenta gruppo tra i più esposti nei confronti di banca marche la morte poi sempre da macerata di giometti la cultura è in lutto dalla provincia di macerata quella di ancona ma toccheremo tutto è poco fa ci hanno chiesto le news da fermo tac siamo andati subito al fermano piazza delle muse sarà pedonale aggiungo io il verbo al futuro perché così potrebbe sembrare che da domani no dalla teoria ai fatti il sindaco silvetti indica la prima mossa per valorizzarla partiamo dalla viabilità la piazza davanti alle muse verrà pedonalizzata nuove panchine e pavimentazioni in arrivo anche per la città danni con il coltello a bordo quattro minori denunciati ricorderete l'episodio gli episodi perché ne furono diversi di questi sedili di conrobus squarciati a coltellate il presidente d'angelo aveva promesso pugno di ferro e attraverso una indagine veloce sono stati individuati e denunciati quattro minori la caccia ai cinghiali nel centro di ancona anche questa viene dal capoluogo catturati sei cinghiali con la maxi trappola d'altro canto erano giorni e giorni che girava questa famigliola di cinghiali ecco un'immagine che lo conferma e viva dice l'edizione intanto mi è passata subito ecco dice l'edizione online presi sei cinghiali alla cittadella il branco scorrazzava da tempo società sprofondate nel crack anche il giornale per ancona e provincia parla inevitabilmente della vicenda lanari torno da voi ma intanto preparo l'edizione di pesaro e provincia buongiorno a tutti vediamo un po che bello questo albero di natale tutto fatto di gattini complimenti sarà una sì una una photoshopata immagino che i gatti pur gentili diligenti non abbiano non avrebbero resistito più di 30 millesimi di secondo tutti insieme così accavallati uno sull'altro ciao anzi mia o buongiorno maurizio buona festa a tutti da questo fantastico trio letizia eleonora e mia che ci seguono da iesi ma che bella questa famiglia guardate mia è come attenta per proteggere le sue sorelle diciamo così perché davvero gli animali d'affezione diventano membri costanti e presenti della famiglia complimenti che vuoi di più dalla vita che vuoi di più dal natale che questa straordinaria coppia di creature con l'aggiunta chiaramente di mia pesaro e il pesarese tesoretto anticrisi dal comune aumentano a 200 mila euro i fondi che saranno destinati ad aiutare le famiglie in difficoltà a pesaro un patto sociale con i sindacati ma se andate a guardare bene in questi giorni vi abbiamo dato la stessa notizia da ascoli da civita nova marche da macerata insomma i comuni in questo periodo ma di stesura di bilanci stanno prevedendo degli aiuti per le famiglie in difficoltà in questo caso come si fa per andare a catturarli bisogna chiamare in comune e chiamare l'assessorato dei servizi sociali chiamare l'urp l'ufficio a relazione col pubblico e farsi indicare abbiamo purtroppo un altro giallo di cronaca ma questa volta lieto fine strappa le collanine ai passanti in centro sempre dal corriere per il pesarese questo soggetto è stato arrestato per cinque colpi camminava sembrava tranquillamente poi un certo punto allungava la mano contro le donne società sprofondate nel crack pure il corriere pesarese ne parla il fano invece si fa rimontare e prende solo un punto il fano si è fatto rimontare due volte a proposito di calcio molti già ci stanno scrivendo in merito alla effettivamente imprevista ma nel calcio è bello anche questo sconfitta eliminazione da parte dell'inter in coppa italia l'inter è come ho detto spesso umilmente dal mio modesto punto di vista la squadra più forte del campionato è anche più bella da vedere del campionato insieme con un altro paio di squadre forse proprio il bologna il bologna nel momento suo massimo perché l'inter ha avuto la sfortuna di beccare il bologna nella forma top il bologna ha avuto ragione a san siro dell'inter per 2 a 1 dopo i tempi supplementari siamo mancati nell'ultimo quarto d'ora la vera preoccupazione secondo me per gli amici nerazzurri è l'ansia per lautaro via da san siro zoppicando per un fastidio all'adduttore oggi ci saranno le analisi c'è anche qualche buon tempone juventino che dici amici interisti non sei juventino io sono uno sportivo prima così mi hanno insegnato i miei genitori mio babbo in particolare mi piace lo sport e poi mi piace anche la juventus insieme con l'ancona chiaramente che è la mia città natale però insomma se si vive lo sport come una guerra non andiamo da nessuna parte Winston Churchill diceva gli italiani vivono le guerre e le perdono come fossero partite di calcio e vivono le partite di calcio e le perdono come fossero guerre Winston Churchill Cristiana Di Stefano buongiorno Fabio Scaramucci buongiorno da Civitanova Angela buongiorno Anna Bini buongiorno che bello questo nuovo quartetto di saluti grazie abbiamo sbirciato l'edizione per Ancona e provincia per Pesaro e provincia e Macerata adesso vi porto ad Ascoli e Fermo la buona notizia ma era prevista era nell'aria ed è successo anche nelle precedenti festività è che sarà a breve lo stop ai cantieri sull'autostrada quei cantieri che determinano code enormi e purtroppo anche spesso incidenti stradali a gennaio torneranno i lavori sulle gallerie nel tratto nord ma per adesso per i prossimi giorni di festività i lavori nella zona centro sud della 14 penso a pedaso penso a grottamare saranno sospesi la rengo cioè la sede del comune di Ascoli che risparmia in bolletta dalle scuole ai palazzi comunali deliberati 30 interventi per l'efficientamento energetico troppe assenze a San Benedetto salta il consiglio per il caso start e poi la vicenda anche questa scabrosa dei turisti picchiati dopo una serata in discoteca sarà il dacur per quattro un divieto di allontanamento cinzia buongiorno vi riporto un ai vostri saluti buongiorno tv hai visto la notizia del bilancio nazionale prevede meno soldi per le regioni quindi poveri anziani poverissima sanità nel frattempo acquaroli tira fuori lo studio di fattibilità per la terza corsia 14 sud 7 miliardi per 26 chilometri secondo questo nostro amico una scelta sbagliata proprio ora che il tratto sud sta finendo il cantiere maledetto tra poco vogliono ricominciare insomma che l'autostrada a 14 abbia bisogno di un ritocco onestamente assolutamente sì roberto da corinaldo tramonto dal monte vettore buongiorno vi seguo ogni mattina grazie roberto un abbraccio a te che ci segui da corinaldo ma soprattutto grazie per questo regalo che ci fai il tramonto dal monte vettore si vede anche la neve è caduta la neve dalle nostre parti queste sono le marche questa è la nostra terra e rispetto a chi legittimamente in questi giorni ci sta scrivendo finalmente parto vado qua vado là ma ragazzi ma dove volete andare dove volete andare tenetevi stretta teniamoci stretta la nostra meravigliosa a terra marchigiana bravo per questa piccola lezione di sport patrizia grazie ma insomma se non altro semmai merito dei miei genitori per come mi hanno insegnato che lo sport è importante viene prima del tifo lo sport viene prima del tifo non per tutti e andiamo al fermano ora ci torniamo anzi maxi blitz barista arrestato operazione dei carabinieri spunta anche la cocaina tra le cose dietro il bancone raffica di segnalazioni anche per carenze igieniche e noi su questo abbiamo anche un servizio e ve lo proponiamo per dimostrarvi che anche il fermano è nel nostro cuore blitz dei carabinieri di fermo e monte giorgio coadiuvati da militari del reparto operativo e dal nasse di ancona nonché dei militari del nucleo carabinieri cinofili di pesaro per specifici controlli in locali pubblici della provincia in vista delle festività natalizie controlli che hanno portato a dividenziare diversi irregolarità ma anche a scoprire l'attività illecita di un gestore che era dedito allo spaccio di droga si tratta di un albanese di 22 anni che è stato sanzionato per violazione delle norme di controllo in materia di sicurezza alimentare e per questo motivo è stata proposta alla chiusura dell'esercizio inoltre durante una perquisizione estesa al suo domicilio è stato trovato in possesso di cocaina contenuta in una busta di plastica occultata nei locali adibiti allo stoccaggio delle vivande dello stesso bar sono state sequestrate 30 dosi termosaldate per un totale di 20 grammi e la somma in contanti di 1600 euro che è ritenuta il provento dell'attività di spaccio la sostanza stupefacente è stata apposta sotto sequestro e verrà ulteriormente analizzata nell'ambito delle indagini in corso mentre il ragazzo è finito agli arresti domiciliari durante il corso dei controlli la titolare di un bar di monteggiberto per inadeguatezze nei requisiti e nelle procedure di controllo nello specifico settore alimentare e igienico inoltre all'interno dell'esercizio è stato sorpreso un italiano di 35 anni sul quale pendeva però un provvedimento di daspo urbano dal settembre 2023 infine i militari del nas hanno sanzionato anche il gestore di un esercizio di porto santelpidio per aver riscontrato delle non conformità con i requisiti generali in materia di igiene con proposta di chiusura dell'attività all'autorità sanitaria competente complessivamente nell'ambito del servizio coordinato sono stati controllati un totale di 37 avventori di cui 11 con precedenti questo è il servizio del collega andrea fiano dal fermano notizia che trovate anche sull'edizione del corriere tra poco sfoglierò il carlino ma vi posso anticipare una notizia che già in diversi mi chiedono di approfondire confermo l'arera ha firmato il rinvio soddisfatte le associazioni di consumatori che lo avevano chiesto compresa adconsum con la quale la nostra emittente da emittente da anni ritiene una trasmissione appunto adconsum in forma elettricità la fine del mercato tutelato slitta al primo luglio che significa che abbiamo più tempo per valutare le varie offerte con la caduta del mercato tutelato volevo però completare il quadro del corriere fermano taglio centrale cavalcata dell'assunta festa anche a natale incontro con l'arcivescovo e contrade mobilitate si sblocca intanto a porto san giorgio l'iter per la rotatoria sulla fermana contesa conferma per la presidente lavori che saranno fatti allo stadio a santa elpidia mare e poi cresce il commercio a porto santa elpidio più aiuti alle donne e una sforbiciatiella all'imu e questo quando si sforbi sforbiciano le tasse non è mai male vi riporto ancora sulla vetta del monte vettore anzi su un fianco del monte vettore grazie all'amico davvero roberto da corinaldo maurizio buona giornata e buon natale a tutti voi sempre grande inter grazie un abbraccio a te io ho parlato dell'inter dopo questa eliminazione una sconfitta che ci poteva anche stare la macchina nessuna macchina è perfetta l'inter ha fatto un ruolino di marcia clamoroso adesso la vera preoccupazione è l'infortunio di lautaro buongiorno il fatto che abbiamo catturato i cinghiali alla cittadella penso che faccia piacere a tutti ci scrivono ma ora verranno soppressi nel modo in cui negli usa sopprimono i peggiori delinquenti macchiati dei peggiori crimini contro il genere umano ovvero con una iniezione letale non era possibile spostarli nei monti lontani dai centri urbani insomma che cosa ne pensate grazie per questa riflessione che ci sottoponi si poteva fare diversamente punto di domanda il meteo il natale che tempo che fa nevicherà nevicherà no non nevicherà io intanto l'ho già fatto il punto sul meteo ma lo riepilogo rapidissimamente dopo aver sbirciato il monte vettore la neve il sole all'orizzonte oggi temperature massime ampiamente sopra i 10 gradi le minime invece saranno a galleggiare tra 2 e 6 gradi la provincia più fredda delle marche sarà oggi quella anconitana per venerdì 22 domani temperature più o meno simili forse le massime aumentano un pochettino ma senza precipitazioni perché c'è l'anticiclone che sta lavorando lo ricordiamo sabato 23 idem arrivo fino alla vigilia di natale poi mi rituffo sui giornali ecco situazione che resta la stessa anche se oggi entra l'inverno ufficialmente da calendario addirittura domenica 24 vigilia di natale per il pesarese tra 7 e 15 gradi per l'anconetano tra 8 e 15 vi porto a proposito di anconetano con il carlino alle edizioni locali e riparto proprio da ancona e provincia terremotati parliamo dei terremotati del 9 novembre 2022 arriva anche la beffa niente soldi per la ricostruzione siamo disperati ma non ci arrendiamo l'emendamento alla finanziaria per inserire degli aiuti ai terremotati del 9 novembre non è passato non ci arrendiamo rispondono noi abbiamo intervistato più volte anche questo terremotato che vedete in primo piano sul giornale siamo ci ha fatto entrare lo ringraziamo anche dentro casa sua stupor mundi quel che resta della sua casa su cui paga il mutuo ancora paga il mutuo su una casa inagibile e purtroppo la beffa niente soldi per la ricostruzione stupor mundi spunta il dietro fronte dopo le anticipazioni gli imbarazzi ma guardate che il grande evento per stupor mundi federico secondo imperatore nato a jesi si terrà ad ancora ma non è stata invitata la città di ancona all'evento di lancio e allora dietro fronte la regione ha invitato il comune di ancona sarà stata una mail sfuggita il rapper che sparò canterà al palace dopo la condanna a cinque anni di carcere il concerto di baby gang al pala prometeo di ancona siete d'accordo non siete d'accordo è soltanto una questione di opportunità questo il commento della collega andrea brusa che saluto sempre una penna ficcante e graffiante ecco e christmas carol ma stavolta è un musical questa sera al teatro delle muse e questa serie di un certo senso anche e tv sarà al teatro delle muse perché metteremo in onda una parte una delle parti più salienti del concertone che il coro universitario dell'univpm ha realizzato qualche giorno fa eravamo presenti con le nostre telecamere la direzione di laura petrocchi questa sera dalle ore 22 una carica di entusiasmo di giovinezza di grande musica e di grandi brani da non perdere ore 22 questa sera su etv babbo natale gli elfi si calano dalle muse questa un attimo l'ho anche sbirciata e approfondita perché certo non capita tutti i giorni guardate il timpano del teatro delle muse e siamo parecchio in alto dal quale si sono calati i ragazzi di edilizia acrobatica in tanti si sono fermati per immoltarare lo spettacolo in pieno centro i ragazzi appunto di edilizia acrobatica sono scesi in sicurezza dal tetto del teatro orgogliosi nel portare avanti questa iniziativa a carattere sociale complimenti buongiorno Maurizio sfatiamo un mito l'inverno inizia sempre il 22 dicembre buon natale infatti ho detto giusto ho detto c'è tra l'altro neanche perché dipende piano piano slitta nel tempo il calendario dice questo poi dopo la realtà è anche un'altra maestranze dell'infanzia e delle elementari intorno a corridonia oltre agli auguri vorrei farvi un plauso e un ringraziamento spesso non sembrate solo maestre ma anche un po' mamme ancora grazie buongiorno e saluti da pier luigi che bello che bello questo saluto dell'amico pier luigi rivolto alle maestranze dell'infanzia e delle elementari intorno a corridonia in provincia di macerata bello questo pensiero perché spesso ci dimentichiamo delle nostre insegnanti dei nostri insegnanti delle nostre maestre e dei nostri maestri io lunedì sera durante la festa che il liceo Galilei di Ancona si è fatto ho ricordato invece il ruolo importante degli insegnanti delle insegnanti citando il Giappone dove Giappone poi lo sanno un pochino tutti l'ho già raccontato altre volte tutti si devono inchinare all'imperatore tutti quanti l'imperatore dà il diritto di non inchinarsi solo ad una categoria sociale proprio quella degli insegnanti e delle insegnanti macerata allora visto che parlavamo di corridonia ci andiamo con il carlino ragazzina violentata e costretta ad atti di autolesionismo laguzzino condannato a 12 anni 24 anni lui 14 anni lei iscrizioni all'università di macerata in ripresa lo annuncia il rettore mcaurt che è stato anche ospite dei nostri studi salgono le matricole dopo anni di declino arrivano 14 milioni di euro per lo studentato alle monachette la struttura ospiterà ragazzi studentesse e studenti contromano fatale brutta brutta storia frontale in superstrada a spoleto muore un marchigiano un 27enne di pieve torina dopo la cena aziendale purtroppo si è ritrovato coinvolto in questo schianto niente soldi dal ministero la battaglia della diversamente abile cesari ricorre al tare stato anche intervistato da noi è stato ospite qua nei nostri studi perché è doveroso dare voce a chi non ce l'ha buona giornata intanto da sapanico vediamo un po a un po di foschi vuola c'è e il contrasto tra l'aria calda chialda l'aria tiepida dell'anticiclone e l'aria fredda della notte un abbraccio a chi ci segue da sapanico ieri bellissima cena natalizia all'accademia pugilistica dorica una realtà sportiva di colle marino sana che tende ad accogliere aiutare e sostenere i ragazzi basata sul massimo rispetto nei confronti dell'avversario e tanta gioia di fare uno sport a cui mia figlia si è affacciata quest'anno che bella questa notizia alessia grazie fai complimenti anche alla tua figliuola che è entrata nella grande famiglia dell'accademia pugilistica dorica una bella immagine la il pugilato la nobola art è il più antico dei degli sport tra l'altro con questo bellissimo gesto a fine incontro che non è scritto in nessun regolamento non c'è una norma che lo sancisce ma viene istintivo tra i due pugili a fine match ci si abbraccia perché alla fine dopo aver combattuto e sofferto lo spirito è quello della condivisione dell'amore per lo sport vado a pesaro velocissimamente con il carlino un imprenditore o un politico per il candidato del centrodestra spuntano broccoli e mochi la vera sfida su pesaro è adesso capire dopo il centrosinistra con nomi importanti chi dal centrodestra si candiderà spuntano broccoli e mochi il nome nuovo è quello del titolare della vetrotec e vicepresidente di confindustria ma torna l'ipotesi dell'ex sindaco di piobico ed ex commissario di fratelli d'italia ci seguite dal pesarese avete un animo di centrodestra chi vorreste come candidato fateci sapere a fano la beffa camion resta incastrato e fa danni al cavalcavia ecco l'immagine che potete ben prevedere ha fatto e farà molto discutere sui social network è arrivato il passaggio ufficiale di testimone da bergamo e brescia capitali italiane della cultura 2023 ora tocca a pesaro la capitale della cultura è già qui altre due notizie stavolta di sport vl ora serve il bis sabato una sfida che pesa contro varese l'obiettivo è quello di dare continuità ai risultati è quello che è mancato in casa vl il fano invece rimontato due volte risultato finale 2 a 2 fossombrone invece k o in casa vado a salutare rapidamente chi ci segue dai social rita buongiorno giordano buongiorno una precisazione doverosa l'inizio del mercato libero dell'energia sditta il primo luglio quello del gas si rimane fissato al primo gennaio sì sì io ho parlato solo del mercato libero dell'energia che slitta al primo luglio grazie ad una decisione dell'arera angelo hai fatto bene a sottolinearlo io non ho detto però il contrario ci tengo a essere pure io preciso mi tuffo ora sul nostro sito etv marche punto it per ricordare ma ieri ve l'abbiamo fatte vedere e tanto queste immagini di uno schianto lungo la camera nense auto spezzata in due tre feriti gravi trovate sul nostro sito etv marche punto it le immagini girate dal nostro antonio violette ancora riflessioni e segnalazioni mi permetto visto che ho un minutino scarso di recuperare la nostra pagina facebook la pagina facebook del programma con quasi 9000 fans trovate tante suggestioni anche tante cose simpatiche io ho aperto e come ho aperto chiudo con questa battuta la vita è un attimo la tredicesima pure e poi quando ti salgono gli spinacci del 72 e cambi la ruota dell'ape senza un cric guardate questo signore col pigiama o quasi con la tuta che dimostra una grande una grande forza verrà il giorno in cui nella tua casa e questo è interessante con questa saluto verrà il giorno in cui nella tua casa ci sarà silenzio tutto sarà pulito e ordinato sarai calmo e senza preoccupazioni nel mentre goditi i tuoi figli perché quello che vivi ora non tornerà mai più e quindi quando legittimamente ci lamentiamo ma la tua camera è sempre un casino ma in sala ci sono tutti i giochi sparsi ma per le scale ci sono le scarpe le ciabatte i cappotti ecco un giorno tutta quella meravigliosa confusione non ci sarà più quindi cerchiamo di con un occhio chiudere con l'altro guardare alle nostre nuove generazioni mi fermo break state con noi l'azienda agricola angeli di varano per questo natale vi aspetta nell'unico punto vendita in via papa giovanni 23 65 a camerano potrete personalizzare i vostri pacchi natalizi con prodotti a chilometro zero di altissima qualità anche con servizio di consegno